Grazie a Spessato e Lucio Leonelli avevano organizzato tutto nel dettaglio. Raccontavano di aver venduto la casa e che sarebbero andati a vivere in Bulgaria perché a Prato non si poteva più stare, ma era tutta una montatura. Da chissà quanto tempo avevano deciso di uccidersi. Lei, 47 anni, era nata e cresciuta a Padova. Si era sposata con un toscano, poi aveva divorziato e conosciuto Lucio. Con lui aveva comprato casa, ma non ce la facevano più, schiacciati da quel mutuo con la Banca Popolare di Vicenza. Quindi hanno deciso di uccidersi. Lui ha sparato a lei, poi si è tolto la vita. Prima però, per non preoccupare nessuno, avevano detto che sarebbero partiti per andare a vivere all'estero. Era tutto falso. Questo è il racconto della cognata Emanuela Cecchinato, la prima a dare l'allarme della loro scomparsa. Sua cognata le aveva raccontato dei debiti, che avevano delle preoccupazioni. Oddio, siamo tutti un po', penso tutta l'Italia un po' messa così. Però messa come lei, no, non ce l'aveva mai detto. Sapevamo che era un po' che aveva problemi con il mutuo, però aveva detto che aveva parlato con la banca, che non c'erano problemi, per cui non ci siamo neanche più di tanto preoccupati. I corpi li hanno trovati due mesi dopo l'omicidio suicidio, nonostante i ripetuti allarmi dati dalla famiglia qui a Padova. Noi siamo stati tanto d'accordo sempre. Eravamo, non dico sorelle, ma era la mia sorellina minore. L'avevo sempre un po' coccolata, però non sapevamo, non avremmo mai immaginato che fosse a questo punto qua. Vi ha raccontato delle bugie per farvi stare tranquilli. Sì, ma tante bugie, penso, tante bugie. Perché noi siamo convinti che avessero già pianificato da parecchio tempo queste cose. Tutto organizzato. Tutto organizzato, sì. E penso anche da tempo. Si amavano? Sì, questo sì. Non posso dire... Almeno davanti a noi si chiamavano Tupino e Tupina, perché in Toscana si chiamano così, ma con molto affetto. Quindi se ne sono andate insieme? Certo, certo. Purtroppo sì. Ora si attende l'autopsia, poi i funerali che si celebreranno in Toscana. Sì. 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 Sì.